Stanno chiudendo reparti di RSA, non perché mancano gli anziani, che ci sono file enormi di anziani che vogliono entrare perché ne hanno bisogno, ma perché non hanno più personale. Stiamo parlando ad esempio di un migliaio di persone nell'arco della ULS numero 2, ad esempio di Treviso. Quello che era un trend con la pandemia è diventato un dramma. Non usa mezzi termini Giorgio Pavan, direttore dell'Isra, nel fotografare la situazione all'interno delle case di riposo. Lo ha fatto nel corso di un convegno che ha portato a Treviso il mondo delle RSA. L'emergenza riguarda in primis il personale che ormai, quando si trova, arriva da oltreoceano. L'Isra di Treviso, che ha 75 infermieri, ne sta aspettando 40. Provenienti da dove? Allora dal Brasile, dall'Argentina, dalla Tunisia, dall'Albania e dalla Moldavia. Professionisti che arrivano da lontano con tutto quello che ne consegue anche a livello umano. È arrivata una signora di 45 anni dall'Argentina. È arrivata il venerdì, lo dico per il dramma, no? È arrivata venerdì sera da noi. Il giorno dopo ha parlato con sua figlia, che è rimasta in Argentina di 12 anni. Ha pianto due giorni, lunedì ha preso l'aereo e è ritornata a casa. E ha fatto bene, gioco io. Ma questo non toglie niente alla drammaticità dell'assenza di personale. Una mancanza cronica che il mondo delle case di riposo chiede venga trattato con strumenti e risorse specifiche nel piano di resilienza. Noi siamo addolorati più ancora che scandalizzati come società civile perché non si è ritenuto in questo piano che dovrebbe delineare l'Italia del prossimo domani. Non si è tenuto conto degli anziani più fragili, delle persone più sole, delle persone che hanno più bisogno di una struttura che le accompagni nella vita. Se il PNRR non fa un passo indietro, non si occupa delle RSA, saranno sepolti, saremo sepolti da anziani vivi, che non trovano assistenza da nessuna parte.